E' un signore sempre elegante... Musica, spettacolo, comicità, ospiti illustri e tanto divertimento. E' nastri di partenza su Teleregione, la sesta edizione del talk show E' ora di te, ideato e condotto da Vito Diomede. A partire da questa sera, dalle ore 21.10, il grande ritorno dello showman che promette tante sorprese ai telespettatori. Quindi vi aspettiamo alle 21.10 più o meno, da mola, perché quest'anno abbiamo cambiato, non siamo a Bari ma siamo a Mola di Bari, in un teatro fantastico, il teatro Van Westerud, una chicca, un mini Petruzzelli in sostanza. Qualche anticipazione degli ospiti ci sarà anche al Bano tra i famosi ospiti? Come fai a saperlo, Antonio? Sei informata di tutto. Sì, ci sarà anche al Bano, però Albano Carisi chiuderà esattamente questa edizione a marzo, quindi il 28 marzo lui sarà ospite da noi e si racconterà. Sarà una serata particolare perché è sempre un personaggio mondiale, italiano ma mondiale, che gira il mondo. Insomma, ce n'è voluto per convincerlo, però alla fine ci siamo riusciti, anche perché ha visto la qualità del programma. E quindi lui si racconterà e canterà. Da non dimenticare il ritorno degli Audio 2, di Silvia Mezzanotte, e come grandi artisti. Poi nel mondo del calcio è venuto a trovarci proprio l'altro giorno Antonio Di Gennaro, tutti gli amici importanti della nostra regione Puglia. Non solo appuntamenti da gustare con il talk show E' ora di te, grande l'attesa anche per gli eventi da vivere a Natale e alla vigilia di Capodanno su Tele Regione, sempre in compagnia di Vito Diomede. Miscelando un po' quello che ho sempre fatto con Stella del Sud e E' ora di te, ecco, assemblerò un po' le cose, le miscelerò e diventerà, come dire, un programma esplosivo, perché mentre a Natale saremo tutti buoni, perché insomma essendo Natale bisogna esibirsi con brani natalizi, con degli argomenti anche un po' meno forti e più dolci. E a proposito di questo voglio ricordare agli amici che ci seguono da casa che noi solo in quell'occasione ci sposteremo dal martedì al mercoledì alle 21.10 in prima serata, quindi proprio il giorno di Natale saremo in onda. Poi ci aspetta il Capodanno, e il Capodanno andremo in onda alle 23.15 più o meno, un minuto meno, un minuto in più, sempre sul canale 14 di Tele Regione e sul 13 della Basilicata, in Basilicata, quindi grande appuntamento con grandi ospiti, ci divertiremo e ci sarà il countdown su Tele Regione per festeggiare l'arrivo del 2020. Una cosa nuova, una novità che ho voluto fare insieme all'equip proprio di questa emittente televisiva, bella e gradita.